In testa per il secondo anno consecutivo, in testa alla graduatoria di giovani di valore c'è ancora una volta il Fasano che ha saputo nuovamente abbinare la valorizzazione dei giovani in prima squadra ai risultati. Salvezza diretta in Serie D mai stata in discussione, anzi per molto tempo la squadra allenata da Giuseppe La Terza ha viaggiato nelle parti alte della classifica, più finale di Coppa Italia di categoria. Un motivo di grande orgoglio e di grande soddisfazione personale è di società, perché comunque quando si punta sui giovani, benché ci si mette sempre un po' di rischio, è sempre un po' rischioso, però ci crediamo perché comunque sono giovani che accogliamo nella nostra società in età sotto quota e quindi abbiamo la possibilità di poterli far crescere nell'arco di due o tre anni. Merito alla società del presidente Franco D'Amico di credere nei giovani, merito di Giuseppe La Terza che ha saputo valorizzarli sul campo. Nelle ultime settimane intanto il tecnico del Fasano è stato accostato alle panchine di Taranto e Fidelisandria. L'obiettivo della dirigenza però è quello di trattenerlo in bianca azzurro per la settima stagione consecutiva. Secondo me si tratterà di una formalità anche perché la nostra più grande fiducia è un ragazzo straordinario, ci troviamo benissimo, è un bel gruppo di lavoro il nostro, insieme al presidente D'Amico, insieme al vicepresidente Custodero, Avezzano Comes, abbiamo creato un bel gruppo di lavoro, si lavora in armonia e quindi l'obiettivo è quello di trattenere il mister La Terza. Non giocherà sicuramente con il Fasano invece Tato Diaz, 10 reti nell'ultimo campionato di Serie D ha firmato nei giorni scorsi con il Real Balompé di Calinense e giocherà nella Serie C spagnola. L'intento era quello di trattenerlo però onestamente non abbiamo insistito più di tanto perché non è una scelta solo calcistica, la sua è anche una scelta di vita dovuta a un avvicinamento familiare, quindi aveva necessità di preservare alcuni aspetti legati anche nell'ambito familiare e quindi su quello si alzano le mani e niente, si augura il meglio al ragazzo. L'altra certezza è che il Fasano continuerà in futuro a puntare sui giovani, ma vorrà sempre ben figurare. Io credo che bisogna intanto mantenere, come dire, quegli equilibri a livello economico, non bisogna sperperare troppo, bisogna puntare sui giovani. Poi è chiaro che ogni società ha degli obiettivi e il nostro è sempre stato quello della salvezza in questo momento, è stato quello di valorizzare i giovani e soprattutto di ben figurare in Coppa Italia.